La Regione Puglia vuole recuperare risorse per colmare il disavanzo ed evitare tagli ai servizi sanitari e quindi l'inasprimento delle tasse. Parola dell'assessore regionale alla sanità Rocco Palese. L'indirizzo del Presidente Emiliano e della Giunta alla parte burocratica regionale è stato sin dal primo secondo, cioè quello di procedere a creare situazioni e tutti i tentativi utilizzando qualsiasi tipo di risorsa, qualsiasi tipo di contesto economico finanziario previsto dalle norme di contabilità per poter recuperare le risorse, coprire il disavanzo e sostanzialmente evitare tagli ai servizi e anche evitare qualsiasi pericolo, qualsiasi possibilità di inasprimento delle tasse regionali. Il grido d'allarme sul sottofinanziamento delle regioni deve essere ascoltato dal Governo nazionale. Non si può non considerare, prosegue ancora, l'aumento dei costi energetici. Ci sarà inoltre un controllo sulla spesa farmaceutica. Parliamo di uno sottofinanziamento molto corposo di 5 miliardi di euro per tutte le regioni ovviamente. Riteniamoci che l'aumento dei costi energetici debba essere ristorato da parte del Governo nazionale nell'interezza. Sarà infine la Giunta regionale ad assumersi la responsabilità politica e gestionale per l'autorizzazione delle spese. Ogni tre mesi con l'ASL ci sarà un report con eventuali correzioni da apportare. Sarà la Giunta regionale ad assumersi la responsabilità politica e gestionale dell'eventuale autorizzazione alle spese. Questo è un cambio sostanziale di metodo sposato dall'Aggiunta regionale dal Presidente Emiliano e spero che produca frutti ineludibili, necessari, perché noi nel 2023 ovviamente non possiamo creare situazioni di deficit come sono state create nel 2022.